allora questa a mio avviso è la lezione più importante non del modulo 4 di workout started ma è la lezione più importante per il tuo business e infatti ti chiedo di prenderti la serenità e la calma necessaria per potermi seguire nel caso in cui mi sia spiegato male oppure necessario di maggiori approfondimenti non esitare a commentare sotto a il video oppure a segnarti tutte le domande per poi in coach affrontare insieme gli aspetti connessi alla rilevazione del punto di pareggio il punto di pareggio che cos'è e come e quando lo si fa il punto di pareggio è quella montare di attenzione le spese si dividono in spese fisse e in spese variabili la spesa variabile per eccellenza è la merce io ho un evidenziatore lo vendo a un euro lo pago 60 centesimi i 60 centesimi è mio costo variabile il punto di pareggio è quando io dico quanti evidenziatori devo vendere per pagare mille euro di spese fra affitto energia eccetera mille evidenziatori perché li venda un euro no io dovrò prendere il costo dell'evidenziatore sottrarlo dal ricavo e quello che mi avanza andare a capire con quello che mi avanza quanti unità quanta unità devo vendere per andare a coprire tutti i costi fissi quindi la rilevazione del punto di pareggio a due punti due elementi fondamentali l'individuazione del totale dei costi fissi e anche scegliere quali costi imputare là dentro e la fissazione del prezzo di vendita sulla base del costo costo mio della materia in caso di prestazioni di servizi non c'è il costo variabile ci sono solamente cose fissi quindi è più semplice in caso di prestazioni servizi avvocato commercialista consulente andare individuare il punto di pareggio quindi sostanzialmente un incasso pari al totale dei costi fissi e il mio punto di pareggio quindi devo incassare quello almeno che il professionista non si avvalga della collaborazione di altri consulenti che magari prendono una percentuale allora dobbiamo rilevare questa percentuale come costo variabile ora io metto questo file qua sotto che un file word poi dopo apriamo anche un piccolo foglio di calcolo se riesco a gestire tutto perché oggi devo registrare necessariamente da casa non ho tutta la mia struttura ma riuscirò a farvi vedere proprio anche il foglio di calcolo che comunque trovate in allegato a questo video allora quando io dico dobbiamo scegliere che cosa inserire all'interno dei costi fissi lo dico perché dobbiamo fare proprio una scelta politica di cosa inserire ad esempio io inserisco la componente dell'energia elettrica all'interno dei costi fissi vado a indicare un prezzo fisso di bolletta perché l'energia elettrica lo studioso di economia ti direbbe no l'energia elettrica più produci più consumi quindi un costo variabile nei business nelle pmi nelle piccole e medie imprese l'incidenza dei costi di struttura sull'energia elettrica è talmente alta che la componente variabile è marginale quindi che cosa si fa? Si mette un importo per eccesso come ho detto nelle prime lezioni quindi se di solito la spesa di energia è 180-190 euro noi si mettono 200 euro di spesa di energia tutti i costi si mettono al netto di IVA se sei forfettario e si fa il business plan tutti i costi si mettono IVA compresa perché il forfettario non scarica IVA come vi avrà sicuramente spiegato Camera nel suo videocorso allora vediamo che cosa in questo business plan che ormai ci fa compagnia già da un pochino che cosa io ho inserito? ho inserito 250 euro di spese amministrative che sono il commercialista, le spese di bilancio, il deposito ho fatto una stima di 3.000 euro l'anno di costi di amministrazione stima reale calcola che un SRL ha costi amministrativi spese vive di circa 700 euro l'anno più il consulente da pagare sulle 3.000 euro costo base minimo può essere anche di più quindi ho messo 250 euro ah un'altra cosa il punto di pareggio io lo faccio a livello mensile si può anche rilevare in anno si può rilevare anche in trimestre si può rilevare anche al giorno però io generalmente lo faccio mensile perché generalmente la rata del finanziamento è mensile e generalmente la banca guarda il business plan per capire si ma ce l'hai soldi per pagarmi la rata? questo è l'obiettivo e quindi lo metto mensile ho messo poi oltre all'amministrazione i contributi IMS 600 euro perché vi ricordate erano due soci l'IMMS il minimale è circa 300 euro al mese commercio quindi ho messo 600 euro vero che sono a carico dei dipendenti del lavoratore mettiamone lì poi ho messo servizi e software per 200 euro e poi ho messo imprevisti la componente imprevisti mettetela sempre e mettetela importante perché ci sono sempre imprevisti nell'attività di impresa cosa potremmo aggiungere nei costi fissi mensili? l'affitto l'affitto dell'immobile in questo caso non c'era perché i commerce lavoravano da casa l'affitto dell'immobile le bollette dell'energia elettrica acqua, luce, gas, telefono DSL la spazzatura le spese di spazzatura tutti i costi fissi di struttura in questo caso il totale dei costi fissi mensili veniva a 1250 euro e che cosa abbiamo fatto? abbiamo fatto una cosa molto semplice il prodotto costava 28 euro il costo per vendere questo prodotto fra commissioni, acquisto del prodotto, dogana, eccetera 12 euro vuol dire che se ogni prodotto venduto il mio margine è di 16 euro se ora tu mi dici eh ma io vendo 100 prodotti come faccio? prendo i 4, 5, 6 prodotti principali e faccio una media di prezzo di vendita media del prodotto costo medio del prodotto margine operativo per ogni unità di prodotto media all'incirca io dirò che il mio prodotto generalmente ha un costo X con un ha un perso di vendita X scusa con un costo Y e quindi il mio margine operativo su ogni prodotto ergo su ogni servizio è pari a questo vado a semplificare però io so perché comunque anche un commerciante ha dei prodotti che vende di più di altri quindi vado a individuare i prodotti principali una parrucchiera, un business plan che fece i mesi i 5, 6 servizi principali l'estetista si mette i 5, 6 trattamenti principali e si va a individuare quant'è il mio margine operativo in questo caso il mio margine operativo per ogni unità di prodotto era 16 euro quindi è molto semplice ho 1250 euro è semplice questo conto perché la cosa che mi fa arrabbiare è che è semplicissimo ma non viene fatto nella maggior parte delle volte e non possiamo permetterci di non farlo i miei costi erano 1250 euro ho visto che il margine operativo su ogni unità di prodotto è 16 1250 diviso 16 quanto fa? 78 vuol dire che io a 78 prodotti ho guadagnato 0 il mio guadagno a 78 prodotti è 0 quanto è che comincio a guadagnare dal 79esimo prodotto in poi al mese? se io vi faccio un esempio potete fare questo calco anche per dire io voglio 1500 euro al mese di stipendio l'ordonetto perché vi pare lo aggiungi nei costi fissi e quindi dici quanto prodotti devo vendere per guadagnare 1500 euro al mese? lo metti dentro in questo caso avresti messo 1500 lordi più 1250 2750 diviso 16 e veniva le unità di prodotto che avessi dovuto vendere per guadagnare 1500 al mese se è insostenibile e lo vedi già che è insostenibile fornire quei servizi e quei prodotti e dici ma com'è possibile vendere 350 prodotti? le cose sono due o non fai quel business oppure devi alzare il prezzo se alzare il prezzo ti manda fuori il target di mercato vuol dire che non devi fare quel business poi in coach ne parliamo bene le coach sul punto di pareggio sono importanti quindi punto di pareggio 79 vendite mensili noi abbiamo fatto questo esempio su una media di 30 giorni lavorativi vuol dire che se io ne devo vendere 79 sulla media di 30 giorni vuol dire che io posso incassare devo incassare 2184 e scrivo in blu e grassetto l'investimento è razionale e sostenibile e capace di rendere i profitti nei brevi periodi perché i titolari stimano vendite per 500 unità mensili per un volume d'affari pari a 14.000 euro oltre IVA quindi su 500 unità mensili venduti ne basta 78 per pagare i costi fissi e quindi ci si rientra un'altra cosa nei costi fissi che è interessante alle banche piace si può mettere anche la rata si va a fare un calcolo di quanto verrà la rata del finanziamento che sto richiedendo la metto dentro e faccio vedere come è sostenibile vendere quelle unità di prodotti sulla base dell'analisi di mercato fatta e quindi la rata è coperta questo piace molto lo dico perché piace molto allora questo era il calcolo del punto di pareggio vorrei farvi vedere anche l'altra formulina dovrebbe essere cola qua allora se io vado a prendere allora così si vede meglio se io vado a prendere ricavo unitario ad esempio io vendo un servizio a 50 euro un servizio o un facciamo servizi vendo una consulenza vendo una consulenza a 50 euro questa consulenza mi costa magari ho un affiliate marketer che mi passa i contatti oppure sono su un portale che per ogni richiesta mi prende una percentuale diciamo che questa consulenza mi costa 10 euro a questo punto vuol dire che su ogni consulenza di 50 euro io guadagno ho un margine di contribuzione unitaria di 40 ipotizziamo che io foglio riesco a venderne 10 consulenze a settimana e quindi io ne vendo 40 ho un ricavo totale di 2000 euro ho dei costi variabili di 400 euro vuol dire che il mio margine di contribuzione totale è di 1600 ipotizziamo che nei miei costi fissi ho l'affitto dell'ufficio le utenze eccetera pari a 800 euro vuol dire che io ho un risultato netto di 800 euro questo qui è il foglio di calcolo che vi troverete in allegato spero davvero di essere stato il più chiaro possibile riguardo a devo riprendere il foglio spero di essere stato il più chiaro possibile riguardo a rilevazione del punto di pareggio e break even point perché io l'ho molto semplificato lo possiamo anche rendere più complesso l'importante è cercare davvero davvero con tutto il cuore di andare a individuare quelli che sono i costi fissi per natura o per scelta di politica aziendale per capire quali sono i margini che io devo veramente ottenere se voglio arrivare a un guadagno pari a per questa lezione è tutto ricorda commenti per eventuali domande ne parliamo poi in coach spero che ti sia piaciuto questo video e sono qui per dirti che questo video fa parte di un percorso formativo totalmente gratuito è disponibile qui su youtube quindi se non sei partito dall'inizio ti invito a visionare la playlist partire dall'inizio per scoprire insieme come aumentare il fatturato dimezzare le tasse e diventare un imprenditore migliore ciao e a presto ciao a tutti grazie a tutti